E ora si fa sul serio, si parte, ci mette il fisico e conquista il pallone. Chiesa, di forza, Bentancur, Dybala, oh, calcio di punizione per la Juventus. Ed ecco che arriva il primo cartellino della gara. Chiesa, Bentancur, Messi, Chiesa, allarga il gioco sulle fasce. C'è spazio, occhio! Si fa largo con grande determinazione. Bentancur, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Dybala! Dybala! Ecco Dybala! Dybala! Mette il gioco. Morata, opportunità! Veno in campo molti passaggi corti e inserimenti negli spazi, Luca. Sì, preferiscono che sia la palla a correre e non gli uomini. Un calcio di precisione, con triangolazioni continue, meno fisico forse, però può essere molto efficace. Griezmann. È un giocatore cui non manca il coraggio e qui non ha avuto paura di tentare un'azione personale. Per quanto ci provino, i difensori fanno una gran fatica a fermare questo giocatore. Si libera la grande. Danilo, recupera un pallone importante. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Si avvicina la porta, un'ora, il portiere seppone. Grande parata dell'estremo difensore. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Palla in avanti verso il compagno. Occhio, può andare! Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Bentancur, prova a velociziare il gioco con la verticalizzazione. Griezmann. La mette in avanti. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Entrambe le formazioni riposono dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. La difesa fino a qui è stata perfetta. Non ha praticamente consentito mai agli attaccanti di giocare. Stanno facendo davvero molto bene. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 a primo tempo. Si ricomincia. Finora la partita è a secco di gol. Nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via della vita. Se ne va! Splendida vozione del portiere! Ballone lungo in verticale. Azione fallosa, nessun dubbio. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Attenzione, grande chance. È difficile combinare qualcosa se hai così pochi... Va di forza! Tentativo molto ambizioso. Forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. La Juventus si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. Piquet. Partita ancora completamente aperta. Gioco, una palla lunga. Morata, opportunità. C'è la palla lunga, in avanti. Possibilità di tiro. Morata. Puffa l'estremo di pensiero. L'ho colpito quando ormai non se l'aspettavano più. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Il Barcellona al calcio di punizione. E qui forse meritava un giallo. Richiamo per adesso è solamente verbale. Guarda, un giocatore come lui, così veloce e pericoloso, a volte può essere fermato solo con il fallo. Ma lo sa anche lui, Fabio, e se l'aspetta. E ha calciato alto. Strano che abbia provato la conclusione in porta da quella distanza. Elius Messi! E hanno fallito questa grande occasione per pareggiare. Quel gol sembra avervi svegliati. Prepariamoci una fase interessante della partita. Attenzione! Messi! Potreva essere l'occasione per imparare. Una parata determinante. Sapeva di doverla fare in questo momento e l'ha fatta. Lungo passaggio in avanti. Morata. E ora deve concludere. Qui deve... La toglie dalla porta! Quest'errore potrebbe essere di fatale. Di bala con più avanti. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. Circo lo spunto! Attenzione! E' un biondo di presso qui! E' tutto! L'arbitro dice che può stare e fischia la fine della gara.